Ciao a tutti, mi chiamo Cristina Antonelli, lavoro per l'hotel Amorosa di Viserba e sono la responsabile. Sono venuta al corso per potermi confrontare con persone professionali e professioniste, per migliorare tutte le mie capacità, per poter crescere. Sono molto contenta di questa esperienza che è la prima, non di corsi, ma la prima con Albergatore Pro, anche se seguo quotidianamente tutte le mattine i loro post. La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è stato il marketing operativo, che è la parte dove io ho un po' più di lacuna.